Nel pomeriggio di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mestrina lungo la strada regionale 11 a Mestrino in provincia di Padova per un incidente tra tre auto di cui due finite in un fossato. Sei le persone coinvolte tra cui due bambini. I pompieri arrivati da Padova hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una persona rimasta incastrata. Le sette persone rimaste coinvolte sono state assistite dal personale del suo e ma corso con più ambulanze. Sei di loro sono state trasferite al pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.